Salve ragazzi, allora siamo a più o meno diciamo un'ora e mezzo dalla fine della partita è mezzanotte la partita è finita verso le 10 e mezzo, 10 e 40 diciamo dai approssimiamo 10 e mezzo è stata una buona partita una buona Italia che diciamo che ha fatto il primo gol con Zaza tiro nettamente deviato e posizione di immobile secondo me in fuorigioco attivissimo perché al momento del tiro si c'è la deviazione del difensore però immobile ostacola nettamente il portiere avversario perché davanti alla traiettoria il portiere non vede nulla quindi secondo me era un gol da annullare poi l'Italia subisce l'offensiva degli norvegesi che cominciano un pochino a premere sull'acceleratore però senza trovare mai una vera occasione da gol infatti Buffon non verrà mai impegnato e poi l'Italia comincia a premere sull'acceleratore comincia lei a premere sull'acceleratore e subito il cambio d'Armian al Pasquale si vede Pasquale è un grandissimo cross per Bonucci solissimo in area non ha molta difficoltà però fa un gran gol di testa anche se era solissimo però fa un gran gol perché ha fatto un grande stacco e c'è il 2-0 dell'Italia poi Zazza ha un'occasione d'oro e un tiro un tiro che doveva assolutamente andare dentro prende la traversa però interna interna, la traversa interna quindi di norma dovrebbe andare dentro il tiro invece purtroppo no prende la traversa interna però li sbatte sulla riga e ritorna in campo la palla e purtroppo è questa sfortuna poi dopo che è tornato in campo c'è il colpo di testa del nostro giocatore e c'è la parata del portiere quindi ci sono state tante occasioni poi addirittura ancora Zazza occasione mette a sede del difensore pallonetto su errore dalla difesa norvegese ovviamente fa un pallonetto al portiere e salva sulla linea il difensore è stata un'Italia diciamo che con la Norvegia era normale che si vinceva però non è stata un'Italia scandalosa Bonucci è stato il migliore perché ha fatto una partita perfetta ha sbagliato il lancio però ha fatto una partita perfetta quindi è stato molto 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 bravo anche Zazza non ha giocato male assolutamente poteva fare qualche gol di più però va bene il problema è che bisognerà stare attenti perché ho visto dei disimpegni veramente stupidi di passaggi veramente cioè di regali di passaggi sbagliati clamorosamente di regali ai norvegesi che dopo ci sono detto loro non sono una grande squadra non sono neanche una buona squadra non è anche una squadra sufficiente perché non si è mai sentita la Norvegia lottare in questi tempi diciamo che è una squadra che ci prova ma non ci sono giocatori di alto spessore diciamo e quindi possiamo affermare che è stata una buona partita sono i primi tre punti e però con la Croazia dovremmo cercare quando giocheremo con la Croazia dovremmo cercare di non fare questi errori perché la Croazia non è una norvegia e la Croazia ricordiamoci che è una buona squadra e ha messo in difficoltà il Brasile e se il Brasile non avesse vinto nel mondiale di quest'anno con quei favori arbitrali la Croazia secondo me avrebbe vinto perché se lo meritava perché stava giocando molto meglio tutto qui quindi allora ragazzi quindi la partita finisce 2-0 gol di Zaza e ripeto secondo me il gol era da annullare però il gol di Lain lo ha convalidato e poi il gol di Mucci e quindi niente sabato riparte il campionato fino a lunedì perché ci sarà sabato giocherà Roma alle 6 Empoli-Roma alle 6 e Juventus-Dinese in quarta alle 9 poi ci sarà l'Inter il pomeriggio con l'altra serie di partite che si giocheranno tutte le 3 praticamente domenica 6 ci sarà Parma-Milan in quarta alle 9 e poi lunedì ci sarà Verona-Palermo quindi 3 giorni di Serie A e ovviamente domenica farò il commento post Juventus-Dinese va bene ragazzi diciamo che sono molto contento dell'Italia vedete ragazzi avere un allenatore come Conte lui urla sempre esulta è un motivatore è un grande allenatore mi dispiace che è andato via dalla Juve perché non ha dimostrato di tenerci alla Juventus non ha dimostrato tanto di tenerci però l'allenatore dell'Italia quindi va bene lo stesso io penso che possa far ritornare la nazionale a livelli alti dove era un tempo quindi ragazzi vi saluto ci vediamo o sabato sera oppure domenica per il commento post Juventus-Dinese ciao ragazzi sempre Forza Italia e sempre Forza Juve ciao